Proseguono le indagini della polizia sull'atto vandalico che si è registrato ai danni della scuola elementare dell'infanzia padre Giochino Lalumia in via San Vincenzo a Canicattì. Sono state analizzate dalla scientifica tutte le impronte trovate, le tracce utili per poter risalire agli eventuali autori del gesto. La pista accreditata è quella legata ad un raid vandalico. Probabilmente chi ha agito ha lasciato anche dei segni che sembrano riportare a riti satanici ma soltanto per confondere le acque. Ma quale satanismo sbotte il sindaco Ettore Di Ventura? Si tratta soltanto di delinquenti. Il sindaco ha espresso profondo rammarico e rabbia per i violenti danneggiamenti perpetrati dai vandali senza scrupolo a danno della scuola padre Giochino Lalumia. Ferisce la mancanza di rispetto per il luogo dove i nostri figli crescono e apprendono la convivenza civile, dice Di Ventura. Mi auguro che questi vili individui con il contributo di tutti vengano presto assicurati alla giustizia e che fatti del genere non si verifichino più. Anche Alberto Tedesco a nome del consiglio comunale di Canicattì ha espresso vicinanza e solidarietà alla dirigente scolastica Giuseppina Cartella, al personale docente e non docente, alle famiglie degli alunni per gli atti vandalici perpetrati ai danni delle scuole Don Bosco e padre Giochino Lalumia. Tali atti, dice il presidente Tedesco, oltre a manifestarsi come una spreggevole offesa ad un fondamentale pilastro di istruzione e legalità costituiscono per le modalità di realizzazione di talune condotte vandaliche anche una gravissima e intollerabile profanazione del luogo simbolo dell'innocenza. Nella convinzione che i demenziali autori dei detti gesti criminali saranno presto identificati dalle forze dell'ordine, auspico la convocazione dell'osservatorio cittadino sulla legalità e la sicurezza al fine di discutere sull'escalation criminale che ha colpito la comunità canicattinese. Infine, Marilena Giglia, presidente della sezione di Canicattì dell'UCIM, esprime profonda solidarietà per il lavoro di costruzione e di diffusione di un'autentica cultura della legalità ispirata ai valori tutti coloro che hanno speso la propria vita per sostenerla. Gli atti vandalici perpetrati contro il presso padre Gioacchino, dice Marilena Giglia, sono gravissimi perché puntano a indebolire il valore simbolico di giustizia e legalità rappresentato da una istituzione scolastica. Non è inoltre un caso il fatto che la scuola colpita si era sempre impegnata nella costruzione di una significativa cultura della legalità, partendo proprio dall'accoglienza e della tutela dei diritti dei più deboli. A chi ha commesso e orchestrato tali azioni vigliacche, voglio in qualità di presidente UCIM far arrivare un messaggio forte e chiaro, la scuola non si lascia intimidire.